e toccava fallo sto video e che non lo fai il video è di tanti auguri a tutti le campane della città suonano per tutti noi in questa vigilia allora raga ve lo dico non c'avevo veramente voglia di niente infatti non posso più non farlo più ma che vedevo di però poi invece ho detto famo così una cosa vera dico che è quella che a cui sto pensando adesso tantissimo sono molto stanca c'è i bimbi malati inizio a dorme la notte però stavo guardando questo cielo meraviglioso e pensavo a quello che tutti si aspettano c'è questa grande attesa ma questa aspettativa la cenone il pranzo che poi alla fine ci si perde in questa roba qui quando probabilmente la cosa più importante è solo una ricordarsi ricordarsi questo dono qua guarda che bello il cielo e mentre tutti stanno a casa a preparare chi con gioia chi con urla chi con ansie chi sereno viene da dire che il presente più grande veramente ce l'abbiamo no ce l'abbiamo e quindi forse possiamo onorare e celebrare quello che c'è questo presente questo momento qui questo qui ed ora è il regalo che ci viene costantemente proposto e quindi buon Natale buon Natale buon Natale in questo presente qua